ciao bentornati sul mio canale oggi vi faccio vedere un libro per colorare questo qua l'ho preso su Amazon ma ha un prezzo risorio infatti pensavo che non fosse con così tanti disegni e i libri da colorare per i bambini e sono tutti gli animali pensavo fosse sempre molto più sottile e invece diciamo che il contenuto mi ha sorpreso perché ci sono parecchi disegni da colorare ora ve lo faccio vedere più da vicino e vi lascio anche il link in descrizione eccoci qua le libri da colorare sfogliando cominciamo io dovevo poter scrivere il nome diciamo del bambino veramente non pensavo ci fossero così tanti disegni oltretutto sono fatti in maniera proprio spiritosa e simpatica e grandi proprio per i bambini che iniziano a colorare a parte il fatto diciamo che potrebbe che iniziano a imparare aiutati diciamo da un genitore anche il nome di tutti quelli che sono gli animali in alcuni ad esempio vicino c'è messo anche quello che mangiano a parte del bambino A presto. devo dire davvero un ottimo acquisto bentornati spero che il video vi sia piaciuto al solito lasciate un like scrivetevi al mio canale e sotto se volete commentare c'è il mio profilo di instagram mi raccomando scrivetevi al canale perché così mi sosterete al prossimo video ciao